I vigili del fuoco di Cittadella sono intervenuti nella tarda serata di ieri a Campo San Martino, precisamente in via Capitelbello, per spegnere le fiamme che hanno avvolto un ricovero a trezzi. La chiamata al 115 è arrivata poco prima delle 22. I pompieri hanno operato per più di due ore per domare l'incendio che ha quasi completamente distrutto la struttura.